Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. In A1 per lavori stanotte sarà chiuso lo svincolo di Valdarno in entrata in direzione Roma in orario 22.6. Sarà inoltre chiuso anche l'allacciamento con la A11 in direzione Pisa. In A11 per lavori stanotte e domani notte sarà chiuso l'allacciamento con la A1 in direzione Bologna. Sul d'accordo siena a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. A Firenze in via Giovanni da Verrazzano in zona Santa Croce chiusura della strada per lavori urgenti. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria ripristinata alla normalità su Camaiore riprende la regolare circolazione dei treni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!